Subito, subito, puntata numero due. Ebbene sì, adesso torniamo a un pezzo di recitazione, vediamo di nuovo sul palco Sofia della Santa e Lavinia Caselli con Le Amiche del Cuore 2. Tipo Don Matteo, decima edizione, Le Amiche del Cuore 2, prego. Ah ma, eh, dimmi, che vuoi? Sì, sto aspettando, Sofia ha detto che mi deve dire una cosa. Eh, sono uscita molto da scuola, ma che ne so io che mi deve dire se ancora te lo incontra, no? Eh, dai, ciao. Nonna, questa quanto si accolla. Amor. Ciao, ciao a lei. Amor, ma che è successo? Niente. Ma come niente? Stai a piangere. Non è vero, me, me con l'arnato. Senti, amor, io te conosco da asilo e quando te fai così vuol di che sei a piangere, quindi raccontami. Niente che c'è, c'è io, io, io te lo giuro, te lo giuro che è vero. Capito le... No, veramente no, ho capito niente, amor. Amor. Amor, ma vedi, a me non mi capisce, ma nessuno. Ma dai, sputa. È che io, io te lo provo, ma non voglio sputare. Sputa. Sicura? Sì. Ma che fai, mi hai sputito i piedi? Me l'hai detto tu. Ma te sei proprio stupida, oh. Sputa nel senso racconta, dimmi che c'hai. Te l'ho detto, cioè, ci provo io però quando parlo, cioè, mi odio, cioè. Capito le... Senti, amor, te non puoi stare così, te io lo devi da dire. Davvero? Ma davvero, davvero che sia, oh, ma che stiamo a fare seriamente, dai, eh. Lo so, cioè, ma io, io sono fatta così. Eh no, amor, eh no, non hai capito niente. Che te fai, metti i piedi in testa? Sì. Ma come sì, te devi dire no, no. Te devi piare coraggio a due mani e io lo devi da dire due mani. Eh certo, con tutte e due mani. Una mani, due mani. Ma sai che chiedevi di? Ah bello mio, te me devi rispettà per tale e quale che so io. Punto. Punto. Eh certo, e poi ci metti pure a virgola. Ma che stiamo a fare, davvero? Ma stiamo ai tempi dell'artipiduliviani, ma fammi capì. Eh amore, cioè, ma lui è fatto così, eh. Ma a me non mi interessa niente, le. Ma stiamo a fare seriamente, ma fa brava un po', non mi piangire, dai. Ho capito, ma io, ma che devo fare? Allora, sai te che devi fare? Eh. O devi portà fuori dal contesto. Tipo, che significa? Tipo fuori dall'Italia. E dove? Che faccio poi? Allora, te innanzitutto fai una cosa che ti appartiene, che non fai dalla cifra di tempo. Ma cosa? Tipo una bella doccia. E poi te te pili. Ma perché? Puzzo, eh. Se vedono? Ehm, beh amore, i peliti stanno usciti dal pantalone, sembrano prolunghe del telefono. E dai, eh, fa brava. Senti, io non ce la faccio, ma che devo fare, no? Senti. Ma che devo fare? Allora, te fai tutte queste cose dopo di che parti, tu e lui, penisola deserta. Io e lui da soli. E certo, soli, soletti. Poi lo sai che gli dici, Carmino, Carmino, e lo lasci là da solo. Da solo, le. Ma che stai a dire? Poi voglio vedere come ritorna. Ma definite me, andiamo a fare le valigie. Vabbè, no, grazie, amore, grazie. E definite, ma a che servono le amiche? Eccole le amiche, prego, venite. Seconda puntata, eh. Son figlia della Santa e la vigna Caselli. Ne faremo altre, ne faremo di puntate.